Diventa sempre più capillare la mappatura digitale dei sistemi di videosorveglianza provinciali previsti dal progetto SOFIA. Ideato dalla prefettura di Pesaro Urbino, si tratta di un progetto pilota a livello nazionale che intende calare il sipare su un sistema di videosorveglianza frammentario poco incisivo in termini di sicurezza, creando invece una cabina di regia unitaria di un numero sempre più ampio di soggetti. Prima è toccato ai sindaci della provincia, poi la procura, gli uffici di poste italiane e oggi 10 associazioni di categoria. A firmare l'accordo a Palazzo Ducale sono stati infatti i rappresentanti di Confindustria, CNA, Confcommercio, Federfarma, Asso Petrolia, Asso Energia, Lega Cop Marche, Confartigianato Imprese, CIA, Confapi e Confesercenti. Faremo in modo quindi che questo sistema di mappatura sia veramente completo sul territorio provinciale. Per noi è un ottimo risultato e ringrazio tutte le associazioni di categoria che si sono dimostrati veramente molto sensibili alla problematica. Il cuore del progetto SOFIA parte dalla geolocalizzazione degli impianti su mappa via area digitale e si propone nell'immediato di risalire in tempo reale all'ubicazione ai referenti tecnici di tutti gli impianti censiti, accelerando così l'acquisizione dei dati da parte delle forze della Polizia in occasione dei reati. Noi pensavamo che oggi fosse diciamo lo step finale e invece abbiamo avuto contatti anche con Abbi e si sono dimostrati anche loro molto interessati a partecipare quindi probabilmente nei prossimi giorni avremo anche le banche con noi e il sistema delle banche. I risultati si sta ovviamente adesso si stanno registrando tutti quanti sulla piattaforma informatica. Sono tanti, mancano soltanto 6 comuni dei nostri 50 quindi è un buon risultato.